Il dato caratteristico del mondo del volontariato, dell'associazionismo, del terzo settore in genere è quello della grande capacità di fare relazione e di essere relazione. Questo è un elemento che con sempre maggiore evidenza si pone tra le priorità non solo delle organizzazioni che il terzo settore esprimono, ma della società tutta, delle istituzioni pubbliche, del mondo dell'economia. Da questo punto di vista esce con chiarezza la responsabilità del nostro mondo, del mondo del volontariato in particolare, a esprimere con anche capacità comunicative decisamente più decise, quelli che sono i valori e quelle che sono le esperienze che ha maturato in questi anni. C'è un patrimonio che deve essere messo a disposizione in termini meno frammentati, più organici, con la capacità di fare sintesi e di enucleare quegli elementi capaci di essere da un certo punto di vista contagiosi, ma certamente di creare forme di cooperazione anche innovative. Credo che vada fatto un salto di logica sia nel mondo del terzo settore, ma anche e parallelamente, inevitabilmente, nel mondo dell'economia, nel mondo delle istituzioni, nel mondo della politica e della cultura, perché ciò che emerge e ciò di cui dobbiamo essere sempre più convinti è che solo attraverso la creazione di un sistema che protegga e tuteli le identità, ma nello stesso tempo le faccia dialogare, parlare e cooperare, il nostro Paese può innescare una strada per risollevarsi, per concepire un modo diverso di pensare al proprio sviluppo, anche economico. Sottolineo questo aspetto perché solitamente quando si parla di volontariato si esclude questa dimensione. Il volontariato, nello sviluppo anche economico, ha una parte di responsabilità e una parte di potenzialità che vanno riconosciute e praticate. La via della governance è sicuramente una delle strade da osservare con molta attenzione da due punti di vista. Quello della governance delle nostre organizzazioni, mi verrebbe da dire, cioè quelle del terzo settore, del volontariato in particolare, che vanno, ecco, salva guardate nel tutelare valori e identità, ma vanno anche in qualche modo potenziate in capacità di progettazione, di gestione, di interlocuzione insomma al proprio interno e con le altre soggettività istituzionali e non. Quindi la capacità appunto di essere propositivo, di cooperare è tutto quello che abbiamo detto fino ad adesso. Dall'altra è indubbio che c'è una corresponsabilità dell'essere parte importante di questo Paese che deve essere invece giocata nella rigenerazione delle istituzioni che ci appartengono a tutti, insomma, a incominciare dalle istituzioni pubbliche. Da questo punto di vista la capacità non solo di fare advocacy, ma come dire, di supportare processi di cambiamento di cui il Paese ha bisogno, credo che sia uno degli elementi su cui dobbiamo giocarci, dobbiamo imparare a, continuo a dire, a cooperare mantenendo un'identità che c'è propria, ma sviluppando una capacità di dialogo, di relazione che deve fare un salto di qualità. Le giornate di Bertinoro sono sempre una fonte, insomma, di informazione, di dialogo, di scambio. Vorrei dire questo, i centri di servizio hanno uno dei compiti principali, quello di fare formazione al volontariato. Ecco, quindi le giornate di Bertinoro intanto danno spunti, danno orientamento, danno materiale, no? Per in qualche modo replicare, per fare da volano riflessioni che poi si sviluppano in tutto il nostro Paese, ma direi anche in Europa, perché uno dei nostri compiti da questo punto di vista riguarda anche la costruzione di un'Europa sensibile a questi temi. Come dico sempre però, probabilmente sarebbe per il volontariato decisamente più fruttuoso una giornata di formazione, che dire, ai responsabili della cosa pubblica, delle istituzioni pubbliche sul volontariato e sul terzo settore, piuttosto che all'informazione interna. Ecco, da questo punto di vista è quindi un invito che questi temi veramente varchino sempre di più i confini degli addetti ai lavori e in qualche modo facciano cultura, creino sensibilità, ecco, perché veramente ci si apra una concezione di società e di istituzione pubblica che abbracci e non escluda quella che è la società, e la società civile in particolare.